Una rete capillare per consentire alla popolazione un più facile accesso alle vaccinazioni anti-Covid. Sono pronte le 11.000 farmacie che partecipano al piano vaccinale su tutto il territorio nazionale e nel Lazio si è cominciato oggi, seguendo l'ordine delle prenotazioni effettuate online sul sito del Servizio Sanitario regionale. Le farmacie già si sono messe in evidenza con un'importante operazione di screening da novembre, che era quella dei tamponi rapidi. Adesso entrano in campo con la vaccinazione. che è un altro aspetto estremamente importante, confermano la loro capillarità sul territorio e l'importanza come presidio sanitario. Nelle 600 farmacie aderenti del Lazio è prevista la somministrazione del vaccino monodose Johnson & Johnson, ma sono esclusi soggetti estremamente fragili o con pregresse reazioni allergiche gravi. Il giorno stabilito dopo l'accettazione del paziente nel posto indicato... Gli giudici verranno appunto poste delle domande alle quali risponderanno alla cosiddetta scheda di anamnesi e dopodiché si procede con l'inoculazione della dose. Lazio è la prima grande regione a partire in questa maniera con le farmacie e questo grazie alla collaborazione che abbiamo avuto e soprattutto al lavoro che abbiamo fatto da un punto di vista organizzativo e siamo particolarmente soddisfatti. Speriamo che è fatta tutto bene, questo posso dire, ho fiducia, quindi spero che si concluda più presto questa situazione e questo vaccino dovrebbe essere veloce visto che è un'unica dose.